Ok, Riccardo, quando si produce un contenuto, per farlo qualitativamente valido, secondo te è più importante metterci la faccia oppure no? Bella domanda. Allora, secondo me ci sono più tipi di contenuto, chiaramente, quindi per me non è che se non si metti la faccia non è un contenuto valido o il contrario. Sono due tipi di contenuto diversi. A mio parere viviamo comunque in un periodo storico, se si può chiamare società, eccetera, eccetera, faccio anche il paragone con la musica anche se non sono per niente informato, però secondo me è molto più facile spaccare, diciamo, con il personaggio. Nel senso, secondo me la nostra società dà molta importanza al personaggio. Parlavo della musica appunto come per dire che sì, è vero, uno deve essere anche bravo a suonare e magari a diventare qualcuno, però secondo me se hai il personaggio è già un passo in più. Quindi, per rispondere alla tua domanda, io ho iniziato per esempio con semplicemente voce narrande, senza metterci la faccia, però anche per i video che facevo, il tipo di video che facevo, secondo me le persone non si interessano tanto al tuo personaggio quanto a quello magari che dici. Quindi dipende dagli obiettivi personali di ciascuno. Secondo me, per quello che voglio fare io ora, vorrei portare un contenuto, insomma, nel quale ci metto la faccia, nel quale le persone possano riconoscersi anche nel mio personaggio. Quindi questo, secondo me, il contenuto valido più di tutti adesso, quello che comunque ti dà molta soddisfazione a te, quanto magari agli altri che hanno bisogno comunque di vedere contenuti, che siamo sempre più vogliosi di vedere contenuti, secondo me è quello in cui ci metti la faccia. Ho capito. Ma tu quando hai fatto questo switch nella tua vita, quando hai capito che potevi anche provare, usare a mettere la faccia? Allora, in realtà molto, molto, cioè, da poco tempo. Non è una cosa partita fin da subito. Nel senso, sono partito facendo video del tutto impersonali, quindi semplicemente ripresa e musica. Non, non mi sentivo soddisfatto per niente, anzi, mi annoiavano e secondo me era un prodotto non valido. Cioè, io guardavo i video, quei video che facevo come, no, non mi piacciono per niente. Poi, gradualmente, ho detto, anzi, è nata proprio col, ne parlavamo col video della quinta superiore in cui volevo lasciare un segno, tra virgolette, abbiamo scritto il testo, ho messo la voce e anche sulla base di quello che dicevano gli altri, perché comunque di mio sono un tipo comunque che la convinzione se la trova anche da solo. Però, se c'è anche altra gente comunque che sostiene le tue tesi, secondo me si avvalorano ancora di più. Quindi, anche sui complimenti, tra virgolette, degli altri, ho detto, cavolo, magari alla gente piace la voce, piace magari quello che scrivo, bene, allora ci provo, faccio questo, provo a metterci la voce. E già il primo step, ho detto, bene, adesso ci metto la voce. Da là, però, ed è una cosa molto recente questa, facevo video praticamente in cui la gente poteva taggare degli amici a cui dedicare il video, no? Quindi magari facevo un video dedicato al miglior amico, in cui la gente poteva taggare nei commenti proprio miglior amico, mandaglielo, o anche il compagno di banco, che è quello che è esploso di più, in cui l'ho preso nel periodo Covid. E là, sinceramente, ero molto felice, sì, però non per quello che volevo fare io, nel senso, ho visto che si stava creando una community che non mi piaceva, devo essere sincero, perché era una community in cui comunque interessava molto, cioè mi seguivano perché sapeva che io facevo questo tipo di video e quindi ogni tanto potevano mandarlo al miglior amico. Cioè, non si interessavano a quello che facevo io, al mio lavoro o a quello che sono io. E poi, sinceramente parlando, le persone, comunque magari forse un po' più grandicelle, che sai, sui 20-22 anni non è che manda il video per il miglior amico. Quindi era una categoria di età molto più bassa. A quel punto ho detto, ero molto soddisfatto perché facevano tante visualizzazioni, sì, è vero, perché, come si sa, TikTok più commenti, più condivisioni e quindi più ti fa esplodere il video. Quindi ho continuato, un po' aspeffatto da questa cosa, ho detto, cavolo che figata, proprio ho detto, no, non è quello che voglio fare io, non è la community che piace a me, voglio fare altro. E quindi ho detto, basta, basta, voglio essere più costante e metterci la faccia. Non importa se faccio meno visualizzazioni, sarà più difficile, sicuramente, sarà più lento il processo, però lo faccio e basta. Quindi faccio video informativi, quello che mi passa per la testa, idee sui dei che spesso anche non mi fanno neanche dormire, però questo ho detto, bene, adesso ci metto la faccia perché non è quello che voglio fare io. E così è andata la storia. Quindi diciamo, il tuo approccio social, soprattutto su TikTok, sta seguendo la tua evoluzione. Quindi contenuti prima magari un po' più naif, un po' più condivisibili, anche, soprattutto con i ragazzi più piccoli, e adesso stanno evolvendo i tuoi contenuti, ho capito bene. Hai capito bene, stanno evolvendo, cioè mi sento che stanno evolvendo. Chiaramente non sento che c'è una spinta sul lato follower, quelle cose là, che per me comunque sono, non dico secondarie, perché per quello che vorrei fare io, effettivamente non ci posso fare niente, sono importanti. Però a livello di soddisfazione personale c'è stata una svolta, e secondo me è anche un grande passo, come per dire. Perché passare dal, ok, è quello che non mi piace fare del tutto, però ho un botto di visualizzazioni, ah, ne avrò molte di meno, però è quello che mi piace fare, è anche, se si può dire, coraggioso. Perché comunque si deve, si deve cambiare del tutto. Ed è per questo che anche il mio maggior dubbio era, cosa faccio, inizio nello stesso profilo in cui le persone erano abituate a una cosa e faccio uno stravolgimento totale, o ne apro uno nuovo e ricomincio totalmente da zero? Cosa hai scelto? Ho scelto la seconda, ho scelto la seconda perché io sono anche molto appassionato non solo di creare contenuti, ma anche di parlare proprio di metodologie per, anche per scala, per prendere visualizzazioni, per commenti, sono appassionato anche di queste cose, un po' come, non so, un social media manager, no, quasi. Chiaramente non di professione, però mi piace parlare di queste cose. E quindi cosa ho detto? Nell'altro profilo, devo ammetterlo, non ero costante, soprattutto per i miei tanti impegni, per indecisioni, non ero costante. Quindi avevo già abituato, tra virgolette, l'algoritmo al fatto che non postavo di frequente. Era un altro tipo di community. Se magari postavo qualcosa di nuovo, non avevo lo stesso riscontro di video che postavo in precedenza. Quindi ho detto, no, non va bene, ne prendo uno nuovo da capo. Anche se non sono i milioni di follower, insomma, erano già 36.000, mi pare, che comunque qualcosina era, era nella buona strada. Quindi anche qua sono felice e spero che sia la scelta giusta. È tipo un nuovo inizio, no? Posso stare con più costanza ogni giorno e contenuti diversi, quelli che voglio fare io. Per metterci la faccia, chiaramente, ci vuole una certa dose di autostima e di carisma. Dove hai trovato, quindi, questa forza anche di capire che 36.000 persone di media ti seguivano e guardavano la tua faccia tutti i giorni? Ok, allora, il fatto appunto che 36.000 persone guardavano la mia faccia non mi ha mai creato un problema, ma proprio per il tipo di contenuto. Nel senso, nei miei video finora erano composte da gif, soprattutto, e ogni tanto mettevo delle mie clip in cui magari registravo. Però, essendo le persone concentrate sul condividere, su quello che stavo dicendo, secondo me l'immagine di sfondo era semplicemente una cosa secondaria. Cioè, anche se fossi arrivato chissà dove, non penso che una persona guardando i miei video poteva dire per quel mezzo secondo di clip, ah sì, tu sei quello che fa i video così. Quindi, quello non è mai stato un problema. Il passo decisivo sul, ok, adesso ci metto la faccia, è innegabile che ci vuole comunque un po' di autostima. Però è una cosa che molte volte può essere anche vista come una cosa negativa, però secondo me è una cosa positiva, perché non dico di essere pieni di se stessi o di farsi grandi castelli mentali, però l'autostima personale, c'è la considerazione di se stessi, il puntare sempre comunque in alto e soprattutto il fregarsene comunque di quello che dicono gli altri. Perché comunque i video che faccio all'inizio, insomma, potevano essere giudicabili, no? Tra virgolette. E questa è una cosa fondamentale. Io in realtà mi sono messo nel mindset, ho detto, cazzo, è una vita sola, cioè, perché sto dietro a perdere tempo, a magari gente che mi dice, ma che video fai, o ma cosa fai? Ti è capitato? Qualcuno ti ha fatto commenti di questo tipo? Sì, sì. Non molti, devo dire. Nel senso, non è mai stata una balangata o qualcosa del genere. Quindi è una cosa che forse si sta anche, è una bella cosa che si sta perdendo nel tempo. Magari le persone non giudicano più come fanno prima. Però sì, mi è capitato e io in realtà non ho alcun tipo di reazione, ma non perché non so rispondere. Nel senso, se una persona dovesse insistere su questa cosa e diventa pesante, a quel punto sì, mi darebbe molto fastidio. Però è una cosa che non mi tocca ed è una bella cosa, secondo me, nel senso, mi fa andare avanti molto bene. Perché le persone vengono reputate, secondo me, molte volte non dici, se una persona non ha un certo seguito, ma magari fa dei bei contenuti, non dici... Le persone molto spesso non dicono, cavolo, tu sei bravo a fare quella cosa. Cioè, non lo dicono finché non raggiungi un certo seguito. Quindi, a chi mi dice queste cose, va bene, lo accetto. Poi magari tra un po' di tempo cambierai idea. Però sicuramente non ti degnerò, tra virgolette, della mia considerazione, se fino a un mese fa era... Che cazzo di video fai, no? Quindi questo è un po' la mentalità che mi sono costruito. Certo. Tu comunque sei molto curioso come atteggiamento. E ti piace anche apprendere, avere una community di persone che la pensano un po' come te, da quello che ho capito. Qual è la tua primaria fonte di ispirazione, se c'è? E che video guardavi quando hai iniziato? Allora, io sono... Da piccolo sono stato un grandissimo appassionato di YouTube. Io guardavo tantissimo YouTube. I classici. Chiaramente ero un ragazzino. Non cercavo di apprendere, tra virgolette. Quindi non avevo ancora in testa questa cosa della content creation. Quindi guardavo i classici che erano i miei stepni, non so, gli akidari. Insomma, questi creator che io guardavo su YouTube ammiravano. E poi magari, pure l'altro giorno, li ho incontrati di persone. Per me è stato assurdo. E quindi, grande appassionato di YouTube, ho scoperto Emalloru. Ho scoperto Emalloru dai video ancora che postava su Instagram. E io non è che li guardavo. Nel senso, io facevo un suo video e lo guardavo quattro volte. Perché guardavo il video per emozionarmi. Perché comunque lui era uno storyteller e di conseguenza mi emozionavano i suoi video. Sia quelli su YouTube, sia quelli su Instagram. E io me li studiavo. Li scaricavo. Gli mandavo anche al rallentatore. Guardavo il mezzo secondo di glitch, come lo usava. Mi interessava il fatto. Ma come cavolo ha fatto fare questa transizione? Andavo a cercarmi la transizione. E può sembrare anche copiare all'inizio. Perché magari il primo video che ho fatto poteva essere simile, anche se non uguale. Perché lui comunque era un maestro. Però è questo, tra virgolette, un po' il segreto. Imparare proprio piano piano. Guardando gli altri ho detto, come ha fatto? È andarselo a cercare. Come ha fatto? È andarselo a cercare. Quindi io i video, che siano di Roberto Ricotta, Emalloru, me li studio completamente. Quindi tu mi dicevi che la tua metodologia si basa soprattutto su questo. Ma non è proprio copiare, alla fine. Perché la creatività è frutto di ricombinazione, no? Assolutamente. Allora, la creatività, secondo me, è stata inventata veramente tanta roba fino adesso. Quindi ci sono state veramente molte idee, ma da tante idee diverse. Quindi, per fare qualcosa di diverso, ci deve essere veramente un lampo quasi di genio, no? Dici, ed è una crescita esplosiva. Perché se tu fai qualcosa di diverso, le persone seguono solo te, seguono la coppia. Invece, l'aspetto creativo magari è prendere ispirazione, però portarlo nel tuo mondo e nel tuo essere, no? Ok? Quindi io prendo ispirazione, però lo metto nel mio stile. Nel senso, io guardavo appunto i suoi video, per esempio, di Eman Loru, però io, per esempio, sono sempre stato affascinato non dal fumetto, nel senso leggermelo. Non ho mai letto un fumetto. Però mi piacevano tantissimo anche i film della Marvel, mi piacevano tantissimo i box, tipo c'era una volta, il discorso fumettistico con la pallina che esce, insomma, dal personaggio. E l'ho importato anche nei miei video. Mi sono scaricato un'applicazione, ho fatto le mie ricerche sul come fare e ho trovato il mio stile anche là. Ok. Quindi abbiamo parlato un po' di stile, di creatività, di metodologia. Quali sono i valori che vuoi portare avanti? Dimmene almeno tre. I valori che voglio portare avanti? Allora, l'impronta, nel senso, l'impronta dei miei video. Io voglio che la mia impronta sia riconoscibile. E probabilmente devo ancora trovare la mia impronta definitiva, no? È un'evoluzione. Che non è mai definita, è sempre un'evoluzione. Però io vorrei che un tipo di video, che sia anche se non ci metto la faccia, cosa che ho appena detto che vorrei fare, però se non ci dovessi mettere la faccia, io voglio che quel video sia riconoscibile al mio canale, alla mia persona. E la sensibilizzazione, nel senso che, non so, io sono sempre, non sono mai stato, se si può dire così, anche se esagerato, magari un bulletto, qualcuno che... Non sono tuttora capace di prendere in giro una persona, a meno che non ci sia nel discorso, magari, la battutina per far ridere, però proprio l'insultare non sono mai stato capace. Per questo è un valore che vorrei portare avanti, perché io non concepisco come una persona possa insultare o comunque sminuire l'altro, no? Ma anche nei social. Capisco che è molto più facile davanti a un computer, davanti a un telefono, però non capisco perché devi buttare giù una persona che sta facendo un buon lavoro. Quindi questo è un altro aspetto. In particolare, quindi, sensibilizzazione sulle piattaforme online, sui social, in questo settore che va un po' regolarizzato. Sì, ma anche, sì, nei social, quindi nella scrittura, nel commento, però anche proprio una questione generale di comportamento proprio. E chiaramente lo faccio tramite i social perché è il modo più, insomma, più veloce, più globalizzato. E l'ultima, non saprei, la scrittura per me è un aspetto molto importante, nel senso che io non parto mai con video, non sono proprio capace, devo ammetterli, non sono capace a fare un video non scritto. Non riesco a iniziare un video a caso, a fare un procedimento a caso parlando per strada o a concluderlo a caso. Io ho bisogno di uno script. Di uno script, sì. Esatto. Quindi mi metto, mi scrivo il video, cerco di essere il più naturale possibile, però ho bisogno della scrittura. Ed è un aspetto che voglio portare avanti perché mi piace avere tutto sotto controllo, anche nel linguaggio, no? Ok, quindi diciamo, nel tuo processo creativo tu sei riuscito a trovare, insomma, una roadmap o qualcosa per cui tu sai esattamente come tenere tutto sotto controllo e come procedere verso la creatività. Sì, sì, l'ho trovata. L'ho trovata proprio esattamente nella scrittura, perché io prima di un video, chiaro, se vedo qualcosa di bello in giro in cui fare i cosiddetti B-roll, quindi le riprese di riempimento, lo faccio, le inserisco. Però la struttura per me è totalmente scritta. L'hai sempre pensata così questa cosa oppure hai provato anche a partire parlando randomicamente e poi hai capito che per te era meglio invece strutturare il tutto? In realtà no, è sempre stato così perché secondo me è proprio una questione di essere e di personalità. Io sono una persona molto ordinata. e questo, sono una persona molto ordinata che ha bisogno di avere comunque tutto sotto controllo e soprattutto non sono una persona, al contrario di quello che può sembrare, magari facendo questo, magari facendo video, postando sui social, al contrario non sono una persona social. Nel senso, le mie cose mi piace tenermele per me. Quindi appunto non sono abituato magari a parlare davanti alla videocamera, a raccontare quello che sto facendo, quello che è appena successo. Quindi proprio per una questione di essere ho bisogno dello script e di avere tutto in ordine durante tutto il video. Ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo. Grazie.